Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Thailandia, ci sono altri aggiornamenti che vogliamo dare quest'oggi sulla Thailandia, quelle che sono le situazioni collegate al turismo, come ad esempio le misure di alleggerimento per quanto riguarda le mascherine in alcune aree della Thailandia e anche il rincaro dei biglietti aerei che sta caratterizzando in questo momento i voidi d'Italia a Thailandia, situazione che sta ovviamente condizionando non soltanto la tratta Italia-Thailandia ma un po' tutto il mercato dei voidi, ma quest'oggi andiamo a fare questo focus sui voidi per Bangkok perché in tanti mi avete segnalato che dietro i prezzi sembrano essere fuori controllo, adesso andiamo a vedere, come sempre ragazzi, quella che vedete da schermo in questo momento è la mia playlist Thailandia, tanti video aggiornati con tutte le ultime novità per quanto riguarda la Thailandia, tra l'altro nei giorni scorsi abbiamo pubblicato questo video, Thailandia, come fare il Thai Pass da giugno, questo perché dal primo giugno è in vigore il nuovo Thailand Pass e la modalità per richiederlo è più semplice, in questo video tutorial che ti lascio qui in alto, facciamo vedere tutti i passaggi e lo puoi chiederli in autonomia, ovviamente gratuitamente, come sempre ragazzi, prima di cominciare il video mi raccomando iscrivetevi al canale, ti vi piacciono i contenuti e lasciate anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, ora come sempre sigla e poi cominciamo! Casi sempre in diminuzione in Thailandia, oggi 3000 casi, vengono segnalati anche 30 decessi, questo è un numero sempre in discesa che fa così andare avanti la Thailandia nel processo di indemnizzazione del virus, c'è anche il breakdown, come direbbero quelli che parlano bene, dei dati, però insomma questo numero è sicuramente molto promettente e mostra come la situazione pandemica in Thailandia è sempre sotto controllo. Andiamo avanti nelle news di giornata, c'è il discorso che dicevo in apertura di video, appunto misure restrittive per quanto riguarda la mascherina, o meglio l'alleggerimento delle misure per quanto riguarda Phuket, dove non è più obbligatoria la mascherina all'aperto nei luoghi di aggregazione, ma vedremo se anche a banco questo verrà esteso, quello qui è nell'articolo, appunto Phuket ha alleggerito, facilitato le misure restrittive per quanto riguarda l'obbligo di mascherina, per la gente diciamo non ha rischio, all'aperto non bisogna più ammetterla, insomma considerando il fatto che è importante che ci sia la distanza di 2 metri, questo appunto dal primo giugno, sappiamo quanto sia suscettibile la comunità terandese sulla mascherina e tantissime persone ancora indossano una mascherina, sappiamo anche che in passato c'era questo obbligo anche supportato da una bella multa per chi non la indossava, per quanto riguarda banco, che vedremo se nei prossimi giorni, magari tra la metà di giugno, anche banco che si allinea a questa misura di Phuket, soprattutto sfruttando il fatto di osservare come a Phuket la situazione dovesse evolversi, per quanto riguarda invece il discorso della vita notturna, insomma gli operatori della vita notturna continuano ad avere una certa frustrazione a causa del fatto che a mezzanotte ci sia l'orario di chiusura ufficiale, l'orario di chiusura appunto stabilito. Altra notizia di giornata, in realtà questo è più un approfondimento che facciamo, riguarda i voli per quanto riguarda la Thailandia, in questo caso prendiamo come riferimento i voli da Milano a Bangkok, se analizziamo nel periodo, un ipotetico viaggio dal 6 agosto al 28 agosto, gli strumenti di analytics che stiamo considerando in questo momento ci segnalano che i prezzi sono statisticamente alti per quanto riguarda questa tratta, lo vediamo meglio dal grafico di come in questo periodo c'è stato un vero e proprio aumento importante, vedete circa un paio di mesi fa si viaggiava più del 30% in meno, in questo momento i prezzi sfondano ampiamente quota 1000 e si arriva anche ai 1200 euro di Qatar Airways, prezzo veramente alto per un volo in economy, e questo grafico ci segnala che la tendenza di prezzo potrebbe andare ancora avanti a salire, e questo perché sappiamo che la situazione complessiva internazionale porta un po' di speculazione, questo perché anche le compagnie aeree arrivano da anni particolarmente complicati e probabilmente vogliono mantenere margini più alti per rientrare dalle perdite degli anni scorsi considerando appunto che la voglia di viaggiare e di ripartire da parte delle persone è sicuramente molto alta, questo grafico è esplificativo e lo vediamo anche dal fatto che appunto nella gradazione dei prezzi appunto risultano in questo momento prezzi alti per la tratta di banco, ovviamente questa è una simulazione fatta su date 6 agosto o 28 agosto, potete farne ovviamente di diverse per trovare magari una soluzione che possa costare meno, in questo caso qui ci propone una soluzione con due scali a 1000 euro, mentre la soluzione magari un pochino più comoda con uno scalo potrebbe essere 1200 euro, in realtà poi se andiamo anche qui sotto vediamo che soluzioni con compagnie anche migliori come Emirates si arriva a prezzi veramente stellari, ben sopra 1500 euro, vedremo insomma chiaro che chi vuole andare ad agosto forse è meglio che decida e proceda ad acquistarsi il biglietto euro prima di averlo pagare, ancora ancora di più, questa analisi dei prezzi la faccio perché ripeto in tanti mi avete segnalato il fatto che avevano una mezza idea di appunto provare a tornare in Italia dopo due anni di pandemia, ma a causa di questi prezzi alcuni di voi mi hanno detto che passano la mano, insomma magari dovendosi muovere in due o tre persone, insomma lasciare 3-4 mila euro soltanto di voli non è proprio magari a buon mercato, ovviamente ragazzi fatemi sapere nei commenti alla fine cosa avete deciso di fare, se andrete o no. Come sempre ragazzi andremo avanti a monitorare quelle che sono le novità per quanto riguarda la Thailandia, in particolare da qui al circa il 20 giugno, perché sappiamo che potrebbe esserci una decisione importante per quanto riguarda il Thailand Pass e per quanto riguarda poi le altre misure riguardo al turismo e andremo avanti anche a osservare qual è questo trend dei prezzi, in particolare dei biglietti agri, ma lo faremo anche poi sulle strutture alberghiere e su altre voci di costo che possono condizionare un viaggio in Thailandia, sicuramente ci saranno anche dei video nel quale cominceremo a parlare di itinerari, di posti da visitare in Thailandia, sempre l'atto di chi sta per organizzare un viaggio e quindi dare un contributo utile appunto a chi sta organizzando il proprio itinerario. Come sempre ragazzi se ancora non lo avete fatto vi consiglio di iscrivervi al canale, cliccando anche sulla campanellina per notifiche, lasciando un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube e come sempre quindi ci riaggiorniamo nelle prossime giornate con i nuovi video, sempre per quanto riguarda Thailandia, un abbraccio e a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!